buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde riprendiamo l'attività dopo la pausa natalizia oggi parleremo delle nuove regole anti covid a scuola partiamo con la prima domanda se dal 10 gennaio in una classe si verificano due casi di positività qual è la procedura che sarà attuata se si tratta di scuole primarie con due casi di positività il dirigente scolastico manda tutta la classe in didattica a distanza per 10 giorni se invece si tratta di scuola secondaria di primo o di secondo grado con due casi di positività il dirigente scolastico applica l'autosorveglianza ma fa frequentare in presenza con obbligo di mascherina ffp2 coloro che diano la dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo per gli altri soggetti non vaccinati o non guariti nei termini submenzionati si applica la didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni questo dice il decreto legge del 7 gennaio 2022 domanda numero 2 i test antigenici rapidi per la rilevazione del covip t 0 e t 5 in fase di autosorveglianza di docenti e studenti possono essere fatti gratuitamente in farmacia ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del decreto legge numero 1 del 7 gennaio 2022 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado soggette all'autosorveglianza e al tracciamento dei contagi covid 19 tramite prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta si può far fare il test antigenico rapido gratuito sino al 28 di febbraio 2022 presso le farmacie autorizzate a questo servizio di trattamento di tracciamento dei contagi domanda numero 3 il docente che ha ricevuto la dose poster cioè la terza dose ed è stato per più di 4 ore presente in classe entro le 48 ore dell'insorgere di casi positivi deve andare in quarantena assolutamente no continuerà a svolgere il suo regolare servizio indossando la mascherina ffp2 per i successivi dieci giorni con sorveglianza al qui che fino al quinto giorno stessa procedura applicata al docente con due casi e con due dosi effettuate entro i 120 giorni precedenti all'insorgere dei casi o guariti dall'infezione da sars covid 2 nei 120 giorni precedenti all'insorgere dei casi anche questi indosseranno mascherina ffp2 per i successivi dieci giorni e la sorveglianza terminerà dopo il quinto giorno speriamo che queste domande e soprattutto le risposte siano utili ai nostri lettori seguiteci ancora sul nostro sito e sui nostri social facebook e youtube perché vi terremo informati di tutte le novità del della scuola arrivederci e alla prossima puntata